nella mia tesi parlo di ambiguità del linguaggio e di discorso istituzionale è un discorso pieno di termini chiamati di cotone di plastica che tendono a battare la dimensione polemica del discorso sono parole che nessuno osa contestare che portano un consenso perché sono seducenti a maglia nel pubblico esiste quindi la necessità di decostruire l'evidenza come dice Craig Plonk cioè di smontare ciò che ci è presentato come evidente indagando quali sono le strategie che accompagnano l'uso di alcuni termini ecco io studio la terminologia della sicurezza della difesa e la sua evoluzione nel tempo dal 2001 2018 i corpora sono formati da atti giuridici non vincolanti in francese e spagnolo e da milioni di parole l'approccio è doppio quantitativo si analizzano i corpora con di programmi e qualitativo cioè cerchiamo il perché delle cose rintracciando le ragioni che si nascondono nel discorso il metodo usato riprende la scuola francese dell'analisi del discorso voilà questa sarà la mia futura tesi come dice Carvino combattiamo la stratezza del discorso è una priorità